salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo video oggi parliamo di un bambino di 9 anni che sta battendo ogni record mentre i suoi coetanei sanno a malapena muovere i pezzi faustino oro è già maestro fide ha una norma da maestro internazionale e batte i grandi maestri oh mio dio ragazzi ma dove stiamo arrivando questo è veramente un fenomeno se vediamo le sue foto è sempre sorridente sembra che sia arrivato a questo livello senza fatica eppure sappiamo tutti che gli scacchi sono un gioco molto difficile qui secondo me siamo davanti a un fenomeno incredibile sembra un bambino normalissimo prima di iniziare ricordo a tutti di mettere mi piace di iscrivervi al canale grazie a tutti coloro che si stanno iscrivendo e iniziamo ok eccoci qui ora vediamo una partita giocata su cespotocom tra faustino oro e un grande maestro azadli vugar vediamo un po cosa emerge dal suo modo di giocare cosa possiamo capire faustino oro apre con pedone 4 vugar risponde con pedone c6 difesa caro can una delle risposte più solide del nero contro e4 oro continua con pedone d3 e dopo pedone d5 gioca cavallo f3 questa è una linea secondaria della caro can ma è una linea che comunque in passato è stata giocata anche dai campioni ad esempio da michael tal campione del mondo vugar cattura il pedone in e4 e dopo pedone per e4 cambia le donne ovviamente il bianco cattura e rientriamo in questa posizione dove il bianco perde l'arrocco ma la posizione continua a rimanere pari è teorica come vedete mosse dal libro vugar continua con cavallo d7 faustino gioca cavallo d2 attenzione facciamo attenzione a questa mossa cavallo d2 la mossa migliore questo cosa significa significa che il bambino a 9 anni è preparatissimo in apertura conosce molto bene l'apertura la capisce e la sa anche a memoria quindi avrà sicuramente passato ore e ore per studiare gli scacchi ok vugar continua con cavallo f6 oro gioca ancora la mossa migliore pedone f3 difende il pedone in e4 vugar allora gioca pedone g5 la migliore pure lui prende spazio sul lato di re con l'idea poi di giocare pedone g4 e cercare di indebolire la struttura pedonale del bianco oro continua con pedone a4 invece prende spazio sul lato di donna anche questa è un'ottima strategia segue torre g8 il nero definitivamente prepara la mossa g4 e il bianco continua con cavallo c4 cavallo c4 viene contrassegnata solo come mossa buona in realtà è la mossa migliore potete verificarlo lasciando pensare il motore di chess.com è la mossa migliore il cavallo fa spazio all'alfiere vugar qui continua con pedone g4 appunto e oro gioca alfiere e2 ecco ora usciamo fuori dalla teoria oro commette diciamo un'imprecisione secondo il motore di chess.com anche se qui la valutazione della posizione ragazzi non cambia rimane pari magari aveva delle mosse che gli davano un leggerissimo vantaggio ma alfiere 2 va benissimo come mossa l'idea è di difendere il pedone in f3 segue pedone per f3 pedone per f3 cavallo c5 ok il nero si prepara a sviluppare l'alfiere campo chiaro oro continua con alfiere 3 la mossa migliore attacca il cavallo il cavallo si ritira in e6 e oro gioca a cavallo di due ancora la mossa migliore sta cercando di finire lo sviluppo vugar salta con il cavallo in h5 questa è una mossa molto forte l'idea è di piazzare uno dei due cavalli in f4 sembra una ottima strategia questa e infatti è così oro continua con cavallo e5 invece commette un errore arriva il primo errore nella partita che tuttavia non compromette la posizione che rimane pari però appunto il nero avrebbe un ottimo piano cavallo f4 controllando poi delle ottime case e attaccando anche l'alfiere in e2 ma per qualche motivo vugar grande maestro gioca alfiere g7 preferisce attaccare il cavallo in e5 questo cavallo in e5 non sta minacciando niente è un bel pezzo si è un pezzo centralizzato ma non minaccia assolutamente niente per il momento il problema di alfiere g7 oro ce lo mostra subito arriva torre g1 con torre g1 il bianco attacca la torre in g8 a raggi x questa torre è in difesa quindi il bianco una torre fortissima il nero una torre passiva benissimo vugar deve assolutamente difendere questa torre con il re quindi giocare f8 oro continua con cavallo d3 si accorge che il cavallo in e5 non era buono non si poteva difendere era sotto attacco quindi lo ritira in e3 segue alfiere d4 ottima strategia questa da parte di vugar attacca alfiere camposcuro attacca la torre è pronto a cambiare le torri quindi ci sta è un grande maestro gioca bene a scacchi oro gioca la mossa migliore alfiere h6 scacco incredibile ragazzi perché qui siamo fuori teoria qui subentrano le altre capacità negli scacchi ovvero proprio quelle capacità dove tu dimostri di capirlo in qualche modo questo gioco di capire come funziona questo gioco anche perché siamo in medio gioco posizione complicata faustino oro continua a giocare le mosse migliori quindi alfiere h6 scacco ma vediamo cosa succede qui alfiere g7 alfiere 3 alfiere d4 bene allora faustino oro maestro fide avrebbe la possibilità di prendersi la patta giocando alfiere h6 patta per triplice ripetizione e invece no gioca torre per torre in g8 ma perché questa mossa perché vuole giocare per vincere è stato educato in un certo modo qui ragazzi siamo di fronte veramente a un fenomeno incredibile ok sia il bambino è un fenomeno che tutto ciò che circonda il bambino è un fenomeno perché non arrivi da solo a quel livello arrivi a quel livello con i genitori alle spalle con un ambiente favorevole incontrando le persone giuste insomma tantissimi fattori sono a favore di questo bambino di 9 anni e poi lui sorridente tranquillissimo normalissimo non sembra stressato per niente insomma lui sta battendo qualsiasi record scacchistico non lo so ditemi voi ok vgar cattura con il re in g8 segue alfiere per d4 cavallo per d4 pedone f4 no ma aspetta come pedone f4 gioca di nuovo la mossa migliore faustino oro pedone f4 sta dimostrando di capire gli scacchi a 9 anni di età è un genio possiamo dire è un genio questo bambino io ora voglio vedere dove arriverà questo bambino ragazzi è un genio pedone f4 attacca il cavallo il nero continua con cavallo f6 ritira il cavallo attacca il pedone in e4 anche se comunque difeso però è la mossa migliore oro gioca c3 ancora la migliore attacca il cavallo in d4 dopo cavallo per e2 re per e2 ora effettivamente il bianco ha tutti i pezzi attivi il nero invece deve sviluppare l'alfiere e poi anche la torre segue pedone b6 vgar cerca in qualche modo di fare spazio all'alfiere per poterlo sviluppare e inoltre controlla questa casa la casa c5 non permette al cavallo di saltare in c5 oro da scacco in g1 con la torre e dopo re f8 gioca cavallo in e5 ok queste non sembrano essere delle mosse fortissime però non sono neanche delle mosse che mettono a rischio la posizione la posizione torna in completa parità il bianco di nuovo ha un ottimo pezzo qua in e5 sta attaccando il pedone in c6 però questo pedone può anche essere diciamo salvato basta spingere in c5 vgar invece da scacco con l'alfiere in a6 e dopo re 3 gioca torre in d8 con torre d8 minaccia di entrare in d3 ad esempio cavallo per c6 torre di 3 scacco e qui il bianco rischierebbe di perdere perché rimarrebbe in presa il cavallo in d2 ok però faustino oro 9 anni è preparato anche tatticamente quindi non cattura il pedone in c6 ma gioca cavallo f3 la mossa migliore e attenzione perché ora sta minacciando delle cose pesanti vuole giocare cavallo g5 cavallo per f7 e qui sarebbe game over partita finita ma allo stesso tempo vuole giocare cavallo d4 cavallo per c6 attaccare la torre attaccare il pedone in a7 come fa il nero a difendersi in questa posizione intanto il nero gioca pedone h6 questa è la mossa migliore impedisce al cavallo di saltare in g5 ma dopo la mossa cavallo d4 quindi la mossa migliore il nero difende sì il pedone in c6 spingendo in c5 ma arriva cavallo f5 wow guardiamo la posizione il bianco sta attaccando con i due cavalli sta minacciando di entrare con la torre in g7 sta attaccando il pedone in h6 quindi sta mettendo una certa pressione il nero invece no quale pressione sta mettendo il nero sta attaccando la casa d3 però la casa d3 è già difesa dal cavallo quindi i pezzi del bianco sono coordinati molto meglio rispetto ai pezzi del nero qui arriviamo in un momento critico della partita vgar commette l'errore definitivo gioca alfiere b7 con alfiere b7 sta attaccando il pedone in e4 ma sarà abbastanza no perché oro gioca una mossa e poi vgar decide di abbandonare questa mossa è torre g7 il problema del nero è che non può impedire torre per f7 scacco cade tutto crolla la posizione questo bambino a 9 anni sta veramente stupendo il mondo degli scacchi incredibile ragazzi non so cosa dire per quale motivo qui la posizione è da abbandono vi mostro una possibile continuazione ad esempio il nero guadagna un pedone gioca cavallo per e4 segue torre per f7 scacco re g8 cavallo per h6 scacco veramente devastante non ho mai visto niente di simile fatemi sapere cosa ne pensate voi di questo bambino se già lo conoscevate grazie a tutti per la visione di questo video vi ricordo di mettere mi piace ed iscrivervi al canale ciao e alla prossima grazie a tutti